milioni di donne hanno già scelto surf, ascoltate qui abbiamo la signora Marina che è russa secondo lei perché lo chiamano intelligente? ma è intelligente perché è in busta prima di tutto che la mia figlia non mette più mai nel fustino poi è intelligente anche perché è biancherina e bianca proprio bianco, bianco che spara ma davvero? surf, il detersivo intelligente e tu l'hai già provato